Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Chiara di Chiara Skakery e oggi vedremo insieme come realizzare una torta brownie in sal cioccolato ricca di pezzettoni di nocciole all'interno e lumidissima. Questo è il suo aspetto e sarà pronta in circa 10 minuti. Una vera golosità! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!